Wilder Penfield era un neurochirurgo del Canada che con interventi chirurgici scoprì che toccando con una sonda il cervello dei pazienti si evocavano delle sensazioni forti come odori forti dell'infanzia, stati di euforia, ricordo di una scena dimenticata nei primi anni di vita e così via. A seguito di queste osservazioni si concluse che il cervello fosse in grado di conservare ogni evento conscio della nostra vita per quanto banale. Oggi invece si pensa che i pazienti sperimentavano, ai tempi di Penfield, più un'allucinazione che il ricordo di un evento. Tuttavia è una cosa certa, riusciamo a conservare più dati di quanti ne riusciamo a ricordare. Possiamo non ricordare molto del quartiere in cui abitavamo da piccoli ma tornandoci ci affiorerebbero in mente alcuni dettagli a cui non pensavamo da anni. Per inciso Penfield fu colui appunto che ci diede l'immagine dell'homunculus di Penfield, ci fece comprendere infatti quali sono le aree diciamo più rappresentate a livello cerebrale sia per quanto riguarda la corteccia sensoriale a sinistra sia per quanto riguarda la corteccia motoria a destra. Di questo però ne ho parlato in maniera più approfondita in un altro video sul mio canale che ti invito a vedere. William Scoville nel 1953 ispirato dal lavoro di Penfield in Canada trapanò praticamente il cranio ad un ragazzo giovane che soffriva di una epilessia invalidante. Rimosse mezzo ippocampo da ciascun lato del cervello e il grosso dell'amigdala. Questo intervento ridusse notevolmente gli episodi di convulsioni ma comportò un'amnesia anterograda cioè una mancata capacità di elaborare nuovi ricordi.